Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del Premier Draghi in Senato, un intervento che ha messo in evidenza il cambio di passo di questo nuovo governo già dimostrato su altre tematiche, sui vaccini, sulla disabilità. Il Premier ha parlato di riapertura, ha parlato di riapertura delle scuole dopo Pasqua. La Lega ovviamente è concorda con questa linea, l'ha sempre sostenuta e sosterremo le riaperture ovviamente in totale sicurezza e chiaramente valutando il rischio epidemiologico in corso. Continueremo a lavorare, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con la serietà e con la voglia di far ripartire questo nuovo Paese partendo appunto dall'istruzione.